L'avena è un alimento straordinario. Oltre ad essere un cereale super nutriente, presenta diversi benefici per la salute. Oltre a essere ricca di proteine e carboidrati, l'avena contiene una grande quantità di fibre. Questa fibra, oltre a migliorare la digestione e la salute intestinale, contribuisce a lungo termine alla perdita di peso. Il consumo regolare di fibre fornisce diversi benefici per la salute, come ad esempio mantenere un senso di sazietà, evitando di mangiare abbuffandosi, aiutare i movimenti intestinali, diminuire i livelli di colesterolo totale e LDL, diminuire lo zucchero nel sangue, ridurre il rischio di malattie cardiache. Oltre a questi fattori, l'avena contiene molti antiossidanti che prevengono l'invecchiamento. È anche una fonte di manganese, un minerale che aiuta a formare il collagene, che aiuta a mantenere la struttura della pelle, dei capelli e delle unghie. Di solito mangiamo avena come ingrediente in ricette come frittelle, farina d'avena o anche succhi di frutta e frullati. Nel video di oggi ti insegneremo un modo pratico per ottenere i suoi benefici attraverso la farina d'avena. La farina d'avena ci fornisce importanti vitamine e minerali. È ideale per perdere peso, perché quando la mangiamo, siamo soddisfatti e mangiamo meno per il resto della giornata. Un altro ingrediente della ricetta è la cannella, che migliora la sensibilità all'insulina, l'utilizzo degli zuccheri, la digestione e contribuisce alla riduzione del colesterolo. Questa ricetta è semplice da preparare e i suoi ingredienti sono molto facili da trovare. Ingredienti Una tazza di avena Un litro d'acqua Un cucchiaio di cannella in polvere Un piccolo edulcorante naturale a scelta o miele opzionale Istruzioni Immergi l'avena nell'acqua per ammorbidirla. Poi mescola insieme agli altri ingredienti. Mescola bene e metti tutto in un vaso di vetro. Ti consigliamo di dividere in porzioni e mangiarla tre volte al giorno. Biscotti dietetici alla farina d'avena Invece di aumentare di peso mangiando biscotti al cioccolato, che ne dici di perdere peso con dei deliziosi biscotti di farina d'avena? Impara a prepararli e gustateli con tè o caffè senza rimpianti. Ingredienti Indicazioni In primo luogo metti in una ciotola l'avena, le noci o l'uvetta, la farina, la cannella, il sale e il bicarbonato di sodio e mescola bene. Quindi in un contenitore a parte sbatti il burro con l'estratto di vaniglia e l'uovo. Quindi aggiungi a poco a poco lo zucchero sbattendo continuamente, in quanto il composto deve risultare uniforme per tutto il tempo. Aggiungi il composto di farina d'avena e uvetta, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Infine, prepara i biscotti e mettili in forno fino a quando non saranno dorati. Saranno il miglior dessert dietetico della tua giornata. Se ti piace il video, dagli un pollice alto e condividilo con i tuoi amici. Grazie.